Mobili de Fanta Aldo. Per arredamenti che durano nel tempo. La nostra ditta opera nel settore degli arredamenti occupandosi della progettazione e fornitura di mobili su misura. Da Mobili de Fanta Aldo, i signori Marco e Antonella vi aiuteranno a studiare le soluzioni di arredo che più soddisfano le vostre esigenze. Inoltre, potete valutare tra le diverse e numerose proposte di arredamenti e mobili delle migliori marche, tutti garantiti e certificati. Arredamenti classici e moderni, mobili rustici, cucine, camere da letto e camerette per bambini, soggiorni, salotti e arredo bagno. Nel nostro showroom troverete anche uno spazio dedicato alla zona relax con poltrone relax, reti e materassi delle migliori marche, per il benessere del buon riposo. La Mobili de Fanta Aldo vi aspetta a Terlago, Trento, in via Roma 32. Per maggiori informazioni, consultate il sito www.mobilidefanta.com